Una preghiera silenziosa e un omaggio floreale. Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica di Corea e il pontefice, appena atterrato all'aeroporto internazionale di Ciampino, si è voluto recare nella Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere grazie alla Madre Celeste del suo pellegrinaggio. Giornate intense che hanno offerto a Papa Francesco l'immagine di una chiesa viva e dinamica, paziente e giovane, come la piccola coreana che all'Annunziatura di Seoul ha offerto al pontefice un mazzolino di fiori, giunto poi fino a Roma ai piedi della Vergine.